Il narcisista usa una tattica che è quella del prima ti provoca e poi una volta che ti ha provocato attende la tua reazione e ogni volta che tu reagisci fa la vittima, ti tartassa, ti tartassa sulla reazione. Però questo è interessante, il narcisista ti provoca continuamente e questo può avvenire in tante situazioni, non soltanto sentimentali e effettive, ma potrebbe avvenire anche in situazioni lavorative, quindi la provocazione del narcisista si chiama moonwalking, fa un passo avanti e due indietro, cioè è il passo famoso di Michael Jackson in thriller che si muove avanti e indietro, il narcisista fa qualcosa, ti provoca, poi si tira indietro, attende che tu reagisci e poi ti tartassa, facendo sparire il fatto che è lui che ti ha provocato, quindi fate attenzione alle provocazioni subtole del narcisista, metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari, ciao a tutti.